Buon appetito! La carica Capucci ha terminato! La carica Capucci ha terminato! Ben papro ragazzi, ben visto! E allora? Non lo faccio, così si sa va! Quanto va a casa? E allora? Allora, la Capucci ha terminato! La Pardossa è terminato! E non è finito! Avete un minuto? Stanno arrivando ragazzi! Un minuto! Allora?